Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Infipili per lavori 3 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Monteluco Fiorentino e la Strassigna verso Firenze. In direzione Livorno code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna e in uscita la Strassigna. In direzione Firenze rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per le autostrade in A1 in direzione Roma code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. In direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Pisa code sul Bivio A1-11 provenendo da Roma e da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est. Muoversi in Toscana Info è un servizio e un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!